la volta che stava, la volta che stava è una felota allora ho preso le mie giardine, ho cercato di aprire ah scusa, a quarta ora, perché tutto questo ha un paparazzino io, allora, allora, allora io, allora, allora io, allora, quando? vero, ma che fa stock? non si vedeva non si sfrirò, 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 ok, siamo fuori allora, inizio a scresare, allora non si sa Questa è la strada. io non ho fatto una macchina ma la mia carciosa è un po' e quindi ci sono e qui ci sono che si parla e qui ci sono e qui ci sono e qui ci sono che sono delle nave e che sono dei passi e quindi è un po' Grazie a tutti 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 Grazie a tutti